Ciao ragazzi qui Giuliano De Danieli dagli uffici di prima posizione. Che cosa, di che cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di una domanda molto ricorrente, è più importante il marketing strategico o il marketing operativo. Prima di trattare questo argomento però devo dirti ai 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 ai, guarda le statistiche con me, c'è un sacco di persone che guardano i miei video ma non si iscrivono al mio canale, quindi iscriviti al mio canale, supportalo, clicca il pollice su per ricevere notifiche e così riceverai ogni volta, ogni settimana, i video nuovi che deciderò di pubblicare perché devi sapere che a volte basta una singola idea, basta una singola idea per cambiare le sorti di un business, quindi non so chi tu sia dall'altra parte, se un imprenditore, un venditore, un direttore commerciale, hai bisogno costantemente di idee, quindi a volte veramente basta poco, quindi rimani in contatto con me. Iniziamo! Allora, è più importante il marketing strategico o il marketing operativo? Questa è l'eterna domanda, innanzitutto andiamo a spiegare che cos'è marketing strategico, andiamo a spiegare che cos'è il marketing operativo, quindi chiedo alla regia di farvi vedere cos'è il marketing strategico, cos'è il marketing operativo. Detto questo, sono entrambi importanti, solo che dobbiamo metterli sulla linea del tempo, sulla timeline, dobbiamo metterli in modo corretto. Cosa vuol dire? Questa è la linea del tempo della strategia di un'azienda, allora qui mettiamo il marketing strategico, quindi devi prima lavorare su tutta la parte di marketing strategico, che è quella più lunga, perché marketing strategico significa analizzare, ok? Significa analizzare cosa sta succedendo lì fuori, analizzare i concorrenti, di analizzare il mercato, ok? Dopodiché, una volta che hai svolto bene questo compito, inizi a lavorare sul marketing operativo. Ecco, uno degli errori che vedo fare lì fuori spesso è che o questo non viene minimamente affrontato, oppure si lavora prima sul marketing operativo e poi ci si domanda perché il marketing operativo non funziona e quindi si inizia a pensare, boh, come mai? Cioè, cos'è che abbiamo sbagliato che non funziona? Questo è il classico errore delle aziende che vanno online a caso, ok? Per ottenere risultati dall'online bisogna lavorare soprattutto a livello di strategia. Infatti, non perché lo dica Giuliano De Danieli, ma perché se tu vai a osservare le aziende di maggior successo, la prima cosa che fanno è effettivamente analizzare il mercato, analizzare i bisogni, analizzare i competitor e poi da lì decidono magari come migliorare il prodotto, decidono che tipo di prodotti e servizi nuovi lanciare e quindi questo ha a che fare proprio con lo studio di tutto quello che c'è lì fuori, con lo studio, diciamo, di una strategia per poi andarla ad applicare. Quindi, se dovessi risponderti, è importante di più il marketing strategico o il marketing operativo, diciamo che sono queste due discipline, sono unite a doppio filo. Perché? Perché se fai bene tutta la parte strategica, poi non fai bene la parte esecutiva, non terrai risultati. Se fai magari bene la parte operativa, sei bravissimo a fare la parte operativa, ma non hai fatto bene prima la parte strategica, potresti ugualmente non ottenere risultati. Quindi se in questo momento le tue vendite non stanno crescendo o sono piatte o non stanno crescendo come vorresti, probabilmente hai un problema o a livello di marketing strategico o a livello di marketing operativo o più semplicemente magari a livello di domanda perché stai magari proponendo un prodotto e servizio che non vuole nessuno. Quindi rifletti su questi due concetti, fermati qualche minuto, vai a vedere che cosa ha funzionato in passato, che cosa non ha funzionato. Cerca di capire magari perché quello che fai adesso non funziona. Basta, per il momento è tutto. Se vuoi approfondire queste tematiche, ti consiglio di acquistare i miei libri, trovi qui sotto il link. Se hai bisogno invece di un aiuto più concreto perché desideri dare una spinta, un'accelerata al tuo business, sai dove trovarmi, sono qui a tua disposizione. Sappi che la prima cosa che ti dirò è se sono effettivamente in grado di aiutarti. Se non sono in grado di aiutarti, te lo dirò subito. Bene, per il momento è tutto. Ciao! Ciao!